... Venerdì 27, siamo al 27 di febbraio, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali. Cominciamo subito con il santo del giorno, poi il tempo e i titoli. San Ruperto, oggi è il santo che ricorda la chiesa. Il sole è sorto alle 5.57 e tramonterà alle 18.30. Il tempo sarà nuvoloso al mattino con precipitazioni diffuse localmente anche a carattere di rovescio più abbondanti nei settori interni e nel settore centro-meridionale della regione. I fenomeni si esauriranno nel corso del tardo pomeriggio a nord, nella provincia di Piazzorubino, e poi in progressiva attenuazione anche nelle altre province della regione. Il limite delle nevicate si aggira intorno ai 1.300-1.400 metri. Le temperature sono in aumento soprattutto nei valori minimi. Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato, vedete il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio schiarite sui settori collinari e costieri anche centro-meridionali, dove però domani mattina ancora ci saranno deboli e diffusi fenomeni con limite delle nevicate attorno ai 1.200-1.300 metri. Per quanto riguarda domenica invece la giornata sarà di cielo sereno su tutta la costa adriatica, qualche nuvolamento invece sugli appennini in montagna. Indicazioni di tempo stabile anche per l'inizio della prossima settimana, con possibile deboli instabilità nelle zone interne, però soltanto da martedì. I giornali con il Correo Adriatico, l'edizione di Marche Nord e il resto del Carlino. Iniziamo dal giornale del Carlino con la fotonotizia, la denuncia di un giovane che racconta la via Crucis del padre, morto perché abbandonato. E' stato ucciso dal virus a 55 anni. I primi sintomi il 28 di febbraio, il tampone fatto soltanto dopo 12 giorni, quando ormai era tardi e non me l'hanno, dice lui, passato neanche per l'ultima telefonata. Il forno crematorio non accetta salme, affano l'impianto già allo stremo da giorni, dirotta le ultime bare in arrivo al cimitero di Pesero oppure di Ravenna. Addio a Roberto Oddo, un noto assicuratore, aveva solo 46 anni, anche lui vittima dell'epidemia. E poi un altro decesso, il cordoglio, per Nicola Antoniello di Pesero. Mentre il presidente dell'Ordine dei Medici pesarese, Paolo Battistini, chiede di fare il test. Fatemi fare il test, lo vedremo tra poco. E poi mantenersi in forma in tempi difficili. La palestra dentro casa, grazie alle dirette su Facebook e poi i futuri sposi che rimandano alle cerimonie. 11 coppie potevano dire sì entro il 5 di aprile, ma hanno preferito posticipare. Il Corriere Adriatico, l'edizione che vedete sul monitor, il balletto degli ospedali, tramonta l'ipotesi pala indoor. Adesso si punta sull'ex Jenny, che è una struttura di 5.000 metri quadrati dove si faceva alta moda. I cinesi per ora invece restano a Shanghai, hanno difficoltà a partire per questioni burocratiche. Salgono i ricoverati, 1.143 con 166 pazienti in terapia intensiva. Crescono anche i contagiati, altri 26 morti. Poi la storia di un bambino di 5 anni che è rimasto da solo, dopo che entrambi i genitori sono stati ricoverati perché Covid positivi. Del piccolo si è fatto carico il comune di Ancona. Noi suore di clausura vi capiamo, siamo abituati, dicono le suore di clausura di Camerino, a spazi piccoli, a vivere da sole. Per cui per noi cambia poco. Capiamo però i vostri disagi. Eccolo qua, la location di via Albertini, un chilometro dal casello autostradale di Ancona Sud. Questa struttura che si chiama Ex Jenny, che sembrerebbe idonea per ospitare il nuovo ospedale da 100 posti letto di terapia intensiva. Anche se ancora non è deciso nulla, salta intanto l'idea di farlo nell'impianto sportivo alle Palombare, scartato soprattutto per la pista rialzata. Servono almeno 5.000 m2 su un'area unica e allora la regione valuta l'ex sede della casa di alta moda che si trova appunto alla baraccola. I cinesi fermi a Shanghai, dicevamo, frena l'ospedale da campo, rallentata da problemi di autorizzazioni, la partenza dell'Emergency Medical Team, atteso a Torrette di Ancona, una struttura da 60 posti, 50 medici, 80 infermieri, 30 tecnici, tutti reduci da Wuhan in Cina. Il contagio rallenta ma avanza, più di 3.000 infetti, 336 morti, ieri altri 180 casi positivi al Covid-19, ma sono aumentati i tamponi analizzati nei laboratori, sale il numero dei ricoverati, 1.143, con 166 pazienti in terapia intensiva, soltanto 9 ancora i guariti. E' come correre 100 volte ai 400 metri, un pianto per i miei colleghi fantastici, dice Umberto Nudi, il capo del pronto soccorso di Marche Nord, il quale aggiunge, il virus era qui da gennaio, come si attraversa questo tsunami, pensiero laterale e una bracciata alla volta. Quando vado a letto penso se abbiamo fatto tutto il possibile, poi mi do la risposta, la risposta è sì, anche di più del possibile. I miei super, i suoi collaboratori sono super, ma devo vigilare sul loro stress, l'inizio è stato tremendo. Ceriscioli, Ceriscioli che è in quarantena, siamo sul Carlino, lavora più di prima, ha occupato la stanza della figlia, ma lo smart working è faticoso. Il tampone dice Ceriscioli adesso non serve, lo faccio tra una settimana. La prigionia è una tendenza che è iniziata da tempo, non è un cambiamento così epocale, il virus sa come imporsi. Intanto il Presidente della provincia Paolini di Piesa Rubino scrive a Conte, gli enti locali non hanno risorse sufficienti, siamo tra i più colpiti e quindi aiutateci. Presidente dei medici in quarantena, dopo 18 giorni attendo il tampone, dice il dottor Paolo Battistini che si è autorecluso in casa dal 9 marzo per sintomi influenzali. Non ho più febbre nei problemi respiratori, ma dopo aver chiesto due volte di fare il test non ho ricevuto risposte. E poi dice, visitavo 60 pazienti a settimana, ma che io sappia nessuno dei miei mutuati è risultato positivo. Ancora dal resto del carlino, i medici di famiglia soli al fronte, così a volte si accumula il ritardo. Fabrizio Valeri, segretario regionale del sindacato SNAMI, dice abbiamo le mani legate, non siamo in grado di controllare gli asintomatici e di curare i sintomatici. Per questo i pazienti arrivano tardi in ospedale. Anche i micro team di sanitari che dovrebbero fare le visite a casa stenta a decollare. Marche Nord mancano all'appello almeno 15 operatori, dicono i sindacati, servono forme di reclutamento più efficaci. E la tragedia di mio padre è morto perché ignorato da tutti. Un figlio racconta l'agonia del genitore ucciso dal virus. L'uomo era forte e in perfetta salute. Il 28 febbraio scorso torna dal lavoro con la febbre alta, ma il primo tampone soltanto dopo 12 giorni. Quando chiedevo di fare il test mi dicevano che se lo portavano in ospedale allora lì si contagiava. E occorre agire subito, mio babbo è deceduto per il ritardo proprio il giorno della festa del papà. L'ultima croce. Roberto aveva solo 46 anni. A Oddo, ucciso dal virus, era conosciuto come assicuratore. Addio anche a Nicola Antoniello, 76 anni, ex direttore dell'ufficio IVA. Roberto Oddo, eccolo qua, non aveva malattie pregresse. Invece, volto conosciutissimo a Pesaro per il suo trascorso, appunto di direttore dell'ufficio IVA, è morto a 76 anni. Una morte assurda, dice il fratello, la sua non riusciamo a capacitarcene in famiglia, lascia due figli. È morto anche Don Nino, il prete degli ultimi, Cristoforo Amati, 87 anni, era un sacerdote molto conosciuto e apprezzato. Sant'Angelo Invado, sempre vicino agli anziani, il vescovo di Urbino Tani, dice non sappiamo se a causa del virus la sua salute era incerta però da diverso tempo. Fanno dirottate le cremazioni, il forno crematorio dell'Ulivo non accetta più bare o spostate al cimitero di Pesaro oppure bruciate a Ravenna. Appena sarà ultimata la seconda linea, torniamo. Autosufficiente, dice Luca Pieri di Aspes. Intanto a Santa Columba 20 morti, tamponi per 47, i decessi sono iniziati dal 12 di marzo scorso ed hanno coinvolto persone che avevano già gravi patologie. Ecco la musica antivirus, a casa si può essere eroi, sempre dal resto del Carlino. I flatbeat, una band di Carpegna, presentano oggi il sindaco a tema sulla quarantena in compagnia della persona giusta. È un po' come volare e questo è il momento per farlo. Intanto continua a nevicare sui monti, manto fino a 60 centimetri, sulle sciovie del Catle, le condizioni sono ideali ma gli impianti ovviamente restano chiusi anche perché la gente tanto non può uscire di casa. E sotto è assurdo vietare di tagliare la legna nei boschi per il corona, Giacomo Rossi, consigliere comunale di Apecchio, dice attività non pericolosa perché si svolge all'aria aperta e le scorte adesso sono a rischio. In fila per la pensione anche sotto la pioggia, ma tutto è filato liscio, agli sportelli postali di Piazza del Popolo a Pesaro, uno in coda dice sono venuto qui con la mascherina, per fortuna scorre veloce. Un decalogo invece per le aziende aperte, quali sono le regole da adottare, negli uffici una serie di adempimenti da rispettare per evitare i contagi. Da Marche Multiservizi una nuova nota sulla mobilità più snella per applicare l'ordinanza della Regione, l'obiettivo è contenere il più possibile i contagi e tutelare la salute degli operatori. Andiamo sull'altra pagina del Carlino Barbieri, che è il sindaco di Mondolfo, che abbiamo intervistato anche nel telegiornale di ieri sera, chiama Medici Senza Frontiere. Mondolfo, il sindaco, chiede l'intervento dell'organizzazione per la casa di riposo Caradorini e scrive ad Asure Regione, arrivata una fornitura di mascherine e guanti per le due strutture nel comune. Polizia locale, fioccano i controlli, siamo a Fano, la città sta rispondendo bene, l'assessore Fanese Cucchiarini dice che i cittadini stanno dimostrando grande senso di responsabilità all'appello di restare a casa. Le strade sono deserte, in centro storico e nei quartieri sono la conferma che le persone escono da casa solo per motivi strettamente necessari. La città deserta, aggiunge l'assessore, io sarò solo temporaneamente per il nostro bene, rispetto alla settimana scorsa le persone sono molto più disciplinate, come dimostrano i report giornalieri della polizia locale. E poi i giornali, le riviste, gli e-book da leggere a casa in sicurezza e la consegna dei medicinali e non solo potenziati i servizi del volontariato. Sono i servizi dei volontari di consegna a domicilio, della spesa e delle medicine per le persone malate in quarantena. A questi si è aggiunto il servizio di consegna in casa e presso gli ospedali anche degli indumenti per le persone malate, così da fornire un ulteriore supporto in questo momento di grande emergenza. La protezione civile ha provveduto a distribuire le poche mascherine che aveva a disposizione alle strutture residenziali per anziani, come Famiglia Nova, la Don Tonucci, il Cante di Montevecchio, l'Opera Padre Pio e anche la struttura della Caritas di Ocesana. Centri che anche in questi giorni stanno continuando senza sosta ad offrire i propri servizi alle persone bisognose. Il virus 22 aspiranti sposi rinunciano alla sì con il blocco delle cerimonie, ma non del rito, le coppie non ci stanno alle nozze solitarie e quindi le rimandano senza sapere quando. Nel 2019 si erano sposati in 267, il 64,8% con rito civile, i divorzi invece sono stati 167. Minaccia il figlio che chiama il 112. I carabinieri fanno irruzione in casa e gli sequestrano fucili detenuti regolarmente e 500 cartucce clandestine. L'uomo, un sessantenne, da tempo aveva assunto comportamenti violenti nei confronti della consorte ed è giunto al punto di minacere di morte uno dei figli durante una furiosa lite. Qualcuno della famiglia ha chiamato il 112 che è arrivata sul posto e quindi poi, come abbiamo visto, sono stati sequestrati i fucili che erano detenuti e 500 cartucce invece clandestine. Tutto questo è successo a Pesaro. Andiamo sull'altra pagina del Carlino. Qui siamo di nuovo a Fano. Il Tag Hotel, che si trova a Bellocchi, si tinge di tricolore speranza. Un singolare gesto di vicinanza alla città e ai suoi abitanti. La struttura è ferma ma accende le luci attendendo che si torni alla normalità. Prima del virus con le Marathon si riempiva, adesso però l'hanno cancellata e di conseguenza l'albergo, questo hotel che si trova appunto a Bellocchi, al momento è fermo. Tutto quanto lì attorno è fermo, eccetto il supermercato. La Diocesi prega per i morti in solitudine. Oggi è un appuntamento importante, oggi è un venerdì cosiddetto della misericordia. Vicinanza a quanti sono nel pianto e nel dolore. Anche la Diocesi di Fano partecipa a questo venerdì della misericordia che si celebra in tutta Italia. Questa mattina alle 10.30 al cimitero centrale di Fano si pregherà per tutti i morti in solitudine al tempo del coronavirus. Così come indicato anche dalla conferenza dei Vescovi. Poi oggi pomeriggio, lo ricordiamo, alle ore 18 da Piazza San Pietro, e lo trasmetteremo anche noi in diretta, il Papa darà la benedizione urbi e torbi alla città di Roma e al mondo e ci sarà anche l'esposizione del Santissimo. È una giornata che chi può passi in preghiera e anche digiunando, possibilmente a pane e acqua. Oggi è una giornata cruciale per i cattolici, è una giornata importantissima, cerchiamo di dare tutti quanti il nostro contributo. Fano gare di solidarietà per l'ospedale, uno studente dà il buon esempio, iniziative dell'Istituto Nolfi-Apolloni, Confcommercio e Consorzio Cogemo. La Lega invece bloccata e dice ogni spesa, salvo quelle per l'epidemia, ha chiesto la covocazione di un Consiglio Comunale dedicato all'emergenza. Valcesano invece, meraviglie dell'Italia meno nota, portale e app per una ripartenza. Poi sotto, solidarietà delle ragazze della Pallavolo di Mondolfo, allenamenti in casa, tirando, tifando, scusate, per medici e infermieri che giocano la partita ovviamente più importante. E questa era l'ultima pagina della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata. E vi ricordo questa sera l'appuntamento delle 20.30 con il telegiornale, poi tutti gli appuntamenti in diretta che abbiamo in parte anche ricordato. Alle 9.30 abbiamo aggiunto un'altra messa da Loreto, d'accordo con la Basilica della Santa Casa. Ci sarà una messa alle 9.30, rimane quella delle 7 da Santa Marta, che abbiamo visto adesso anche altre televisioni, compresa la Rai, trasmette al mattino. Quindi vuol dire c'è bisogno anche di pregare in questo difficile momento. E poi oggi pomeriggio alle 18, ma a mezzogiorno, c'è anche l'Angelus con il rosario sempre da San Pietro, dalla Basilica, con il Cardinal Comastri, Angelo Comastri, un rosario molto bello. Poi il Cardinal Comastri è straordinario. E alle 18 da San Giovanni Rotondo, alle 21 il rosario di nuovo in diretta dalla Basilica di Loreto, ma oggi pomeriggio, come ho già detto, alle 18.00. Quindi oggi salta la messa da San Giovanni Rotondo, perché alle 18.00 avremo questo collegamento con la Basilica di San Pietro. Ci sarà questa piazza San Pietro completamente vuota, ci sarà soltanto l'esposizione del Santissimo, Papa Francesco, che darà poi la benedizione Urbi e Torbi. È un evento straordinario, non è mai successo nella storia della Chiesa, che alla benedizione Urbi e Torbi venisse impartita, non nei soliti due appuntamenti annuali, ma in questo momento così difficile, anche in una situazione così extra. Altrimenti, sapete, si dà soltanto due volte all'anno e quando viene eletto il Papa, la benedizione Urbi e Torbi. Quindi questo è un evento unico e sarà molto importante anche noi fare la nostra parte. Con la preghiera, il digiuno, per chi può, pane e acqua oggi. E quindi ci vediamo stasera. E forza e coraggio! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS